Ok, quindi riprendiamo. Bene, allora, finora lo sappiamo che quello che abbiamo sviluppato finora non è molto realistico. Voi mi sentite bene? Si sente bene là dietro? E voi vi siete già accorti che l'applicazione che abbiamo fatto finora funziona ma non è molto realistica, no? Nel senso che quando facciamo ripartire il server tutti i dati che abbiamo salvato e tutte le cose che abbiamo fatto, diciamo per dire tutti i form e tutte le cose che abbiamo salvato, vengono cancellate, no? Ogni volta che fate ripartire Flask si cancella tutto. Quindi non è molto realistica da quel punto di vista e in realtà non è un'applicazione web, no? Perché qual è la caratteristica di un'applicazione web? Che è un'applicazione distribuita. Nel senso che molti utenti potrebbero lavorare o fare cose sulla stessa applicazione e i dati dovrebbero essere consistenti per tutti gli utenti. Vuol dire che un'applicazione propria e vera deve essere distribuita e deve avere tutta la persistenza centralizzata, no? Noi facciamo girare qua questo sul nostro computer, ma basta, chiudiamo l'applicazione e non funziona più, non ci sono più i dati, non persistono da nessuna parte. Com'è che si risolve questo o com'è che si fa nella vita reale a sviluppare un'applicazione propria e vera tramite o usando un database? A cosa serve il database? A far persistire i dati che gestisce la nostra applicazione. Poi pensate che anche un'applicazione mobile funziona con un database dietro, no? Quindi sia per dire un'applicazione mobile che un'applicazione web, tutti e due, alla fine cosa fanno? Alla fine il front-end sarebbe il mezzo tramite il cui gli utenti possono interagire con i dati, no? Ma la parte più importante dell'applicazione alla fine qual è? Sono i dati che gestisce. Se noi proviamo a fare un'applicazione mobile o un'applicazione web che non è in grado di salvare i dati e poi di gestire quei dati, pensate che non serve a nulla, anzi non penso esista nessuna applicazione che non gestisca i dati o che non salvi i dati da qualche parte. Allora, cos'è che vogliamo fare con questo database? Vogliamo andare a far persistire i dati? E poi in questo caso ci sono pochi dati ma idealmente o nella vita reale servirebbe a gestire big amount of data e basta. E questo lo faremo tramite SQL, ok? Sapete tutti voi cos'è SQL? Siete... ok, un database? No, giusto per sapere, perché non è che tutti fatti informatica, giusto? Ok. Niente, quindi andrò a spiegare quello piano piano e per chi non ha ancora idea di cosa sia il database e come funziona SQL, andremo a fare la spiegazione molto... molto passo a passo. Bene, quindi finora cosa abbiamo noi? Abbiamo solo la Python application, ok? E sulla, diciamo, abbiamo un'applicazione Python e su Python cosa abbiamo aggiunto? Flask. A cosa ci serve Flask? A gestire i file HTML usando Jinja e basta. Finora niente, niente di più. E finora la nostra persistenza è all'interno di Python. Per questo che la nostra persistenza finora è un array, sono dei dizionari ma tutti definiti come strutture dati Python, ok? E cos'è che andremo a integrare? Andremo a integrare il server, cioè il database. Ci sono diversi database, quelli più, diciamo, famosi, forse più usati, sono MySQL, Maria DeVe, che è un fork di MySQL. Boh, sì, forse sono quelli più usati. Noi non useremo nessuno di questi due perché tipicamente un database viene seguito su un altro computer che noi chiamiamo server, no? Quindi all'interno di un server viene installato il database, viene seguito il database lì e poi quel database può essere raggiunto dalle applicazioni tramite una connessione, no? Quindi la mia applicazione va a connettersi con quel database e ad usare quel database che si trova in un server remoto, cioè non gira sul mio computer. E quello lì ha una certa complessità, no? Tipo stabilire la connessione, puoi essere sicuri che il database sta girando sempre, perché altrimenti se noi non facciamo girare il database e dalla nostra applicazione cerchiamo di fare qualche request o qualche query al database, qualche interrogazione e non ne sta girando, allora non funziona. Noi in questo corso, per risparmiarci, diciamo, quella complessità, abbiamo deciso di usare SQLite. Cos'è SQLite? È un database, ma che non viene seguito remotamente su un server, ma che viene rappresentato come un file, ok? Quindi tutto il nostro database è all'interno di un file e noi sappiamo come gestire i file all'interno del nostro progetto, no? Quindi questa è una scelta che abbiamo fatto noi per toglierci la complessità di andare a fare seguire il database, un server remoto. E di fare la connessione e di gestire le connessioni. Comunque SQLite funziona sempre con il linguaggio SQL, che è il linguaggio tramite il quale si può interagire con un database. Quindi anche come consiglio, se poi volete voi sviluppare un'applicazione vostra, il mio consiglio sarebbe farla usando SQLite, che è molto più facile, molto più gestibile come un file, e poi quando sapete che funziona, cosa fate? Create un database vero e proprio, lo eseguite su un server remoto e fate la connessione. Lo rimpiazzate, per dire. Ma a livello di sviluppo ci conviene farlo usando SQLite. Quindi è open source, è self-contained, e basta. È un singolo file che andremo ad aggiungere al nostro progetto. E poi ci sono degli standard che ci offre Python per andare a gestire i database. Non un singolo database, ma i database in generale. Quindi come vedremo più avanti, se io volessi usare MySQL, o anzi, l'esempio che vi ho fatto prima, se io per lo sviluppo voglio usare SQLite Library e poi sostituirlo per MySQL perché voglio, che ne so, tipo seguire, lanciare la mia applicazione più sul serio, non devo andare a modificare quasi niente. Non è che devo risviluppare il sito. Devo cambiare un paio di parametri, una riga di codice, e a quel punto riesce ad attaccarsi con qualsiasi database di questo tipo, di tipo SQL. Quindi questo è un vantaggio, perché vuol dire che facilmente io riesco ad interfacciarmi con diversi database tramite questo standard che ci fornisce Python. E questa connessione si riesce, boh, si fa tramite un connector, tramite un modulo, che nel nostro caso sarà SQLite module, che in altri casi, a seconda del database, boh, sarà diverso. Poi questo lo dico, ma giusto, non lo useremo qui, ma giusto così lo sappiate, ma c'è un'altra database molto popolare che si chiama PostgreSQL, che è comunque SQL, e poi c'è un tipo di database, che non è SQL, ma che sono non-relational databases, che appunto, come dice il nome, sono no SQL, SQL, che in questo corso non verranno viste, neanche nel corso di Web Applications 1, ma che servono a gestire dati che non sono molto strutturati, o che non ci interessa che siano dati molto strutturati, o dati transazionali, giusto? Quindi per dire, quando ci sono dei dati, no, fermiamoci lì, diciamo, sono dei dati che non devono soddisfare certi requisiti di struttura e di transazionalità, capito? Che non devono essere completamente consistenti, che non devono essere, sì, soddisfare certi requisiti, ma questo è un caso molto particolare, non ci fermeremo su quello. E, ok, poi c'è la specification. E basta, e quindi, cosa dovremmo fare nella nostra applicazione? Dobbiamo seguire dei passi per andare a interfacciarci con il database, per comunicarci con il database, e per salvare i dati non sull'applicazione, ma sul database. Quali sono questi passi? Sono 4 o 5 passi molto, molto semplici. Il primo, fare il connect, no? Che nel caso, ora lo vedremo con un esempio, no? Ma che nel nostro caso è molto semplice perché è solo andare a puntare su un file, che è il file SQLite, che è all'interno del nostro progetto. Per questo chiusciamo SQLite. Se volessimo fare questa cosa usando MySQL, allora in quel connect lì, cosa dobbiamo specificare? L'indirizzo dove si trova, o l'indirizzo del server dove sta girando il database SQL, anche forse il port e altri parametri, ma quando si vuole fare una connessione remota. Poi, dopo aver fatto la connessione, c'è Python, che ci fornisce questo cursor, che sarebbe per puntare o per fare le richieste, diciamo, sì, è l'elemento che ci consente di fare delle richieste al database. Poi c'è questo execute, che viene applicato sul cursor, cioè adesso esegui questo comando che ti indico io tramite il cursor, e poi gestiamo quello che ci siamo presi dal database. Ok? Che questo fa molto più senso quando lo vediamo così, col codice. E quindi da quello che c'è lì, cosa capite? Cosa riuscite a capire? Riuscite a capire? Allora questo SQL cosa sarebbe? Il comando, no? Tipo l'istruzione scritta in SQL. Che SQL è un linguaggio, un standard per andare a chiedere cosa è il database. Questa query qua, come si può tradurre? O cosa vuol dire? Cosa fa questa query? Si prende tre campi. Sì, allora da una tabella che si chiama translation, lui va a prendere tre campi, giusto? L'id, original e modified. Quindi da questo SQL qua, noi riusciamo a capire che c'è una tabella che si chiama translation e che ha tre colonne, perché nei database tutto viene strutturato come se fosse un file Excel, no? Nel senso che ci sono le colonne e ci sono i valori messi all'interno di quelle colonne, no? Quindi qua c'è la nostra tabella translation che ha una colonna ID, una colonna original e una colonna modified. E quindi possiamo anche intuire che c'è una tabella che ha la traduzione tra una lingua e un'altra. Poi questo qua, secondo voi, cosa fa? Sì, va ad estabilire la connessione con un database che si trova dove? O che sta girando dove? A localhost, vuol dire sul nostro computer, ma comunque sta girando, quindi abbiamo dovuto far partire quel database anche per riuscire a trovarlo. E come si chiama il database? Fanny Echo. L'utente si chiama root, che è un'altra cosa che gestisce anche MySQL, che è l'utente che può collegarsi al database, in questo caso per dire non ha una password, ma comunque... E quindi guardate che, appunto, ha dei parametri che noi dobbiamo impostare nel caso volessimo farlo con MySQL. Poi questo cursor viene creato a partire dalla connessione che siamo riusciti a fare e poi ci prendiamo il cursor. E quando è che viene seguita la query? Con questo cursor.execute. Quindi noi facciamo cursor.execute e lui esegue questo query su questo database con cui siamo riusciti a fare la connessione. Questo fetch all, cosa vi immaginate? A cosa serve? Chiede al cursore di passare tutti i risultati. Ci prendiamo tutti i risultati che siamo riusciti a prenderci da quella query e per ultimo vengono chiusi sia il cursore che la connessione. Ok? E poi fa il return. Poi cosa succederebbe se io mettessi quel return prima di chiudere il cursor e di chiudere la connessione? In Python cosa succederebbe? Esce dalla funzione e non chiude mai né il cursor né la connessione. Quindi fate molta attenzione a fare per ultimo il return e sempre prima di... o meglio ogni volta che fate una query su un database fate sempre attenzione ad aver chiuso il cursor e ad aver chiuso la connessione. Ok? Ma ci sono solo questi 4-5 passi. Niente di che. Non è una cosa difficilissima. Ah! E poi mi dimenticavo. Guardate che finora noi siamo qui. Stiamo parlando di Python. Ok? Non ne stiamo ancora parlando di Flask. Non vi ho ancora detto come si integra questo con Flask ma stiamo vedendo come si fa solo come se fosse un'applicazione Python stand-alone. Poi vediamo come si fa l'integrazione. Ok? E poi quello che vi dicevo prima se io al posto di usare MySQL volessi usare SQLite come lo faremo noi cos'è che dobbiamo andare a cambiare da questi da questa sequenza di passi? Il secondo. Solo il secondo. Solo quella riga lì. Tutto l'altro si comporta uguale. Quindi questo diciamo è una figata nel senso che al di là del database che io sto usando non devo andare a cambiare tutto il codice ma solo andare a modificare questa riga qua. Era quello che vi dicevo in questo diagramma qui. Ok? Ok. Niente, quindi vediamo questi passi vi comungo di qua qualcosa ok allora noi possiamo fare un SQL come questo che è fisso che non ha dei parametri e in cui viene seguita quel query lì che viene specificato che viene specificato quattro virgolette poi sicuramente anche mi interesserà andare a fare un query in cui io possa definire dei parametri no? Ok? I parametri che non siano parametri fissi o valore fissi ma che possano essere dinamici o che si possano essere definiti dall'utente o che si possano che possano variare per dire com'è che si fa quello? Su SQLite si fa con questo qua come leggiamo questo insert into translation original e modified solo che questo guardate che allora meglio cosa vuol dire questo query qua? cosa stiamo cercando di fare? aggiungere alla tabella translation un original e un modified perché qua non ne stiamo aggiungendo anche un ID? perché perché l'ID lo gestisce in autonomia il database quindi anche questo è molto figo rispetto a come facciamo adesso perché adesso eravamo noi a dover gestire l'ID adesso è il database che ogni volta che viene inserito un valore o una row in autonomia è capace di incrementare il valore e aggiungere e assegnare quell'ID lì quindi in questo caso a noi ci interessa aggiungere nella tabella translation original e modified ok quali sono i valori per original e modified? non li sappiamo sono variabili giusto? e quindi per dire che questa query prenderà dei valori variabili vengono specificati con questo o viene messo questo simbolo qui e basta un altro modo di fare questa cosa potrebbe essere fare insert into translation e poi chiudere le virgolette più e poi scrivere diciamo quello che diciamo i valori che stiamo per aggiungere qual è il problema con farlo così o perché non si deve mai fare così per quello che parlavamo anche l'altra volta no? dell'SQL injection se io mi prendo per dire se io dico aggiungi lì quello che ha inserito l'utente nel form e l'utente nel form inserisce una una query SQL cosa farebbe lui? fa eseguire quella query SQL che ha inserito l'utente nel form e quindi a livello di sicurezza potrebbe fare di tutto quindi al posto di farlo così diciamo la convenzione sarebbe usare sempre questo questo modo di specificare che ci aspettiamo dei parametri e poi vi faccio vedere com'è che si inseriscono i parametri lì perché in questo modo è giusto perché Python si occupa di fare delle verifiche e di vedere che i dati e che le cose che stanno per essere inserite nel query siano giuste e che non che sono consistenti con il database ok appunto quindi si usano questi placeholders quindi questo simbolo qua è un placeholder per motivi di sicurezza e basta poi guardate il secondo il secondo passo che era quello per la connessione al database quindi quando si fa con MySQL è quello che abbiamo visto nelle slide precedente quando si fa con SQLite molto più semplice no? perché facciamo SQLite.connect e secondo voi questo example .db cosa sarebbe? il file all'interno del quale si trova il nostro database quindi qua non viene messa né la connessione né l'utente né ma il file all'interno del quale si trova la nostra database ok questo qua continua esattamente uguale e guardate che qui guardate che questa qua per dire sarebbe una una query un execute in cui ci sono i parametri no? guardate che nella prima lui esegue un SQL che non ha parametri tipo quello che avevamo visto prima in questo qua invece lui cosa si aspetta? due parametri due valori giusto? e lui come sa e invece qua cosa c'è? come primo parametro il query che abbiamo visto prima con i placeholder no? quindi il primo parametro sarà una cosa di questo tipo insert into translation originally modified values e vengono messi questi due placeholder e qua invece quando viene invocata questa funzione execute come primo parametro viene messa viene messo il query con il placeholder e come gli altri due parametri cosa viene messo? proprio i valori che vogliamo inserire in quel che si che vogliamo integrare in quella in quella in quella query lì in quella interrogazione lì quindi per dire questo qua sarebbe original e modified ok? ma il valore proprio ok? poi a seconda di quello che stiamo facendo noi o del query che stiamo cercando di seguire c'è fetch one per prenderci un singolo risultato che potrebbe avere senso se il mio query fosse cercami l'utente con l'id x e quindi in quel caso ci aspettiamo che ci sia solo un utente con l'id x o se fosse per dire passami tutti i piatti che costano più di 5 euro in quel caso non ci aspettiamo un solo risultato ma ci aspettiamo boh tanti o forse nessuno ma comunque se ci aspettiamo più di uno usiamo questo fetch poi ok? poi quando noi andiamo a modificare qualcosa sul database bisogna sempre fare commit ok? quindi ci sono due tipi di cose che possiamo fare sul database una andare a prendere informazioni dal database che si fa solo con l'execute che sono tutte le cose tipo select from select from lì ci stiamo andando a prendere qualcosa allora facciamo non dobbiamo fare commit ma se noi facciamo tipo insert update and delete del database cioè andiamo a fare qualche modifica sul database bisogna sempre aggiungere questo con punto commit ok? e poi non dobbiamo mai dimenticarci di chiudere la connessione e di chiudere il cursore ok? sì quando non c'è più bisogno del cursore allora viene chiuso e si usa un cursore per ogni query che vogliamo fare sul database quindi se prima io faccio un select diciamo se io definisco una query select cosa faccio dopo? creo il cursore per quella query lì e seguo quella quella query lì quel SQLite statement basta poi se dopo aver fatto quel select io voglio fare un insert cosa faccio? creo un altro cursore per quella per quella query lì e niente faccio sempre e apro e chiudo la connessione e il cursore ok? dobbiamo sempre chiudere la connessione e è quello che dicevo prima non non fare il return prima di aver chiuso la connessione perché a quel punto quando si fa il return esce dalla funzione e rimane aperta la connessione col dato adesso che ah ok questa cosa è importante si può usare sempre la stessa connessione ma si devono creare nuovi cursori quindi non è che se dovete fare che ne so tipo prendere fare un select un insert e poi un update non è che create una connessione per ognuna di questi query ma create una sola però allora usate la stessa connessione ma create sempre dei cursori nuovi quindi la connessione si apre una volta e si chiude una volta ma all'interno potete usare tutti o dovete usare tutti questi cursori qui per fare dell'operazione all'interno del database ma tenendo sempre la stessa connessione ora vi faccio vedere un esempio che sicuramente si capisce meglio ok e qua ci sono ci sono anche i passi per implementare questa funzionalità qua usando MySQL o MariaDB in caso voi voleste vederlo più avanti o vi servisse per qualsiasi altra cosa quindi niente potete consultare questo materiale qui bene questo come codice cosa sarebbe non ci potete non ci potete è questo che vedete qui quindi guardate che ci sono due file un file python e un file .db quindi questo file .db cosa sarebbe? il database e questo file python è quel file che si interfaccia col database e fa qualcosa e questo file python è molto semplice cosa ha di nuovo rispetto a quello che abbiamo fatto finora importa questo SQLite non c'è bisogno di installare niente perché questo SQLite fa parte di python diciamo come modulo è già di default all'interno di python quindi non c'è bisogno di installare niente bisogna solo importarlo quindi viene importato SQLite ok questa è la funzione che viene sempre chiamata ogni volta che viene lanciata un'applicazione python e quindi la nostra applicazione cosa fa? per prima il primo passo qual'era? quello di andare a definire un query scritto con la sintassi di SQL che poi verrà seguito sul nostro database cosa facciamo in questo caso? ci prendiamo tutto quello che c'è cioè tutte le colonne che ci sono all'interno di una tabella che si chiama come? to do ok? cosa immaginate ci sia all'interno di questa tabella to do? o dei compiti da fare? o delle cose da sì dei compiti da fare una tabella molto semplice quindi prima prepariamo questa questa SQL SQL query poi il secondo cosa sarebbe? andare a stabilire la connessione col database che il nostro database di nuovo molto semplice molto ovvio è questo task.db ok? perché mettiamo task.db? perché siamo nella stessa cartella siamo allo stesso livello quindi non c'è bisogno di aggiungere niente a questa url o a questo path se come lo farete voi più avanti ci fosse una cartella tipo db e il database fosse all'interno di questa cartella db come si farebbe? db slash task.db ok? poi guardate dopo aver fatto la connessione che io posso reussare tutte le volte che voglio e creo un cursore questo cursore per eseguire questa questa prima query che è un select all ok? beh niente è anche diciamo molto semplice questa sintassi vuol dire che io andrò a creare un cursore che applicherò o chiuserò su questa connessione su questa su questa variabile connection che ho definito proprio lì prima poi viene seguita la funzione cursor.execute.sql cioè execute questa questa questo query qua perché abbiamo usato fetch all sì perché se stiamo facendo un select all sicuramente ci aspettiamo di prendere più di uno ci aspettiamo o può capitare che ci prendiamo più di uno quindi non è fetch one ma fetch all e stampiamo quel risultato lì ok? e cos'è che non dobbiamo dimenticare di fare? chiudere questo cursore qui chiudiamo anche qua la connessione? no perché guardate che qua sotto vogliamo andare a fare un'altra query quindi la connessione la lasciamo aperta e chiudiamo solo questo cursore qui bene guardate questa qua com'è diversa questa query dalla prima questa qui ha dei placeholder vuol dire ha dei parametri ok? poi verrà diciamo tradotta o gestita come insert into to do una description e un diciamo un valore per description per la colonna description e un altro valore per la colonna urgent ok? ma questi valori quando noi andiamo a creare la query non vengono specificati perché non li sappiamo ok? in questo caso ovviamente questo è un esempio molto molto semplice giusto per farvi vedere in questo caso li sapevamo nel senso che comunque vengono messi qua sotto no? ma pensate che forse questi valori potrebbero essere dei valori a seconda di quello che mette un utente su un form o a seconda di boh che ne so sì di un'interazione che fa l'utente quindi sono dei valori che noi che sono dinamici che possono cambiare dei parametri insomma e quindi facciamo il nostro query mettendo aggiungendo qua questo placeholder che viene specificato che vengono specificate con questo carattere qui ci sono due campi ci sono due campi qua diciamo vogliamo aggiungere due valori a due campi quindi ci sono due valori o due placeholder in questa query e basta qua viene solo scritta quando è che aggiungiamo proprio questi valori o quando è che specifichiamo quali sono questi valori che verranno eseguiti o che verranno aggiunti al nostro query qua no? guardate cosa fa qui fa cursor2 punto execute si prende il SQL che abbiamo specificato qua e qui cosa mette? una tupla con i valori da aggiungere a quella a quella a quel query lì a quelle statement SQL lì ok? in realtà non è molto diciamo non è molto diverso non è molto difficile da capire bisogna solo fare attenzione se ci sono i placeholder vuol dire che si aspetta un valore se non ci fossero questi placeholder vuol dire che la query da sola può essere eseguita senza dover specificare niente ok? perché qua abbiamo messo connection punto commit sì perché siamo andati a modificare la tabella dopo aver seguito quella quella query lì e invece nel primo perché non c'era? perché la tabella è rimasta uguale siamo andati a prendere dei dati dalla tabella ma la tabella è rimasta uguale qua invece dato che abbiamo fatto qualche modifica viene fatto connection punto commit poi viene viene chiuso il secondo cursor e poi viene chiusa la connessione ok? tutto chiaro? no non si usa lo stesso per ogni come best practice per ogni per ogni richiesta viene usato un cursore diverso anche perché guarda che per dire dal cursore è quello che ti serve anche a prendere i risultati no? e quindi da questo lo sai che i risultati che ti stai prendendo corrispondono a questa prima consulta a questa prima interrogazione che hai fatto qui capito? che è diverso da quella interrogazione che hai fatto per dire qui una volta che chiudi ti serve a liberare quello spazio lì quello spazio in memoria che ti sei preso per caricare i risultati che ti sei preso dal database quindi come si tu liberi quello spazio lì e basta come se come se se tu andassi a cancellare i risultati che ti sei preso dal database e quindi non ti serve più quindi tu usi il cursor per andare a seguire la query per prenderti i dati te li prendi fai qualcosa diciamo all'interno dell'applicazione e poi liberi quel spazio lì liberi quei risultati lì anche per questo che serve creare uno ad ogni ad ogni query che vuoi fare sul database sì prima perché se sì che non c'entra col cursore ma con la connessione no perché sarebbe un qualcosa che tu fai sul database quindi prima di chiudere la connessione sul database dici fai commit no mentre io adesso la connessione mentre riesco ancora interagire col database do l'istruzione di fare il commit e poi dopo di quello posso chiudere la connessione no si può fare un commit per tutte le modifiche che hai fatto sarebbe come un salva no per salvare tutti i cambiamenti tutte le modifiche che hai fatto allora fai un commit e basta ok bene bene vediamo questo qua se riusciamo a farlo seguire niente niente guardate ho seguito questo e cosa ha fatto guardate che dal codice c'era richiesto c'era detto di fare questa di seguire questo SQL che si prendeva tutto dalla tabella to do e poi di stamparlo perché qua c'è print result e quindi lui se lo prende e sarebbe questa informazione che c'è qui o questi dati che ci sono qui quindi da questi dati riusciamo a capire che c'è un ID che c'è questo compito imparare SQLite e che c'è un altro campo che è di tipo numerico giusto? questo diciamo riusciamo a saperlo leggendo questo brutto messaggio di consola poi voi vi chiederete appunto se questo è un file com'è che andiamo ad aprire un file di tipo SQLite ci sono due modi un attimo stacco il computer perché sta alla prossima Grazie a tutti. Allora, per creare un file tipo... per creare un file SQLite esiste questo programma che si chiama DB Browser for SQLite. Lo trovate e lo potete scaricare da... ... 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 è quello che ci risolve tutto l'auto incremento quindi noi mettiamo auto incremento e adesso una responsabilità del database gestire gestire l'indice gestire l'id quindi lui si occuperà sempre di andare ad incrementare l'id e poi questa univoco non ci sarebbe bisogno di specificarla nel senso che abbiamo già messo che questa sarà una primary key e default il primary key è univoco not null tutto quanto quindi possiamo lasciarlo così e guardate che qui lui ci fa vedere questo come codice mysql o come codice sql come verrà tradotto create table piatti e ce l'abbiamo lì c'è già la nostra il nostro database che si chiama test dv e all'interno di quel database c'è una tabella che si chiama piatti e che ha anzi non abbiamo niente ha questa tabella che finora ha solo l'id ma che non ci serve a niente avere solo l'id quindi se io voglio aggiungere ancora un altro campo posso fare modifica tabella ok la differenza tra questo naviga tabella e questa modifica tabella sarebbe che questo sarebbe per modificare i dati che sono messi all'interno della tabella questo qua invece cosa ci serve a modificare la struttura della tabella cioè ad aggiungere una nuova colonna ad aggiungere un nuovo kibo quindi facciamo modifica tabella ok salva e quindi nel nostro dizionario cosa c'era qua sicuramente il nome del piatto che è un testo not null perché ovviamente non è che ci può essere un piatto senza nome e autoincrement no primary key no ok cos'altro c'era ok tipo una categoria sì e qua questo potrebbe essere anche un testo e possiamo dire not null guardate che per dire questa categoria qua io potrei fare una scelta come sviluppatore no potrei dire questo è un testo nel cui caso per quella colonna lì verrà messo primo secondo come una stringa ok un'altra scelta potrebbe essere dire no questo non sarà un testo ma invece sarà un numero sì un integer e io come sviluppatore gestirò in modo che che ne so tipo l'uno vuol dire primo piatto due vuol dire secondo tre vuol dire contorno quattro dolci e così via ma questa è una scelta che faccio io da sviluppatore e come andare a rappresentare l'informazione all'interno del database e poi come gestisco quell'informazione dalla parte front end com'è che faccio vedere all'utente perché sicuramente l'utente se io lo facessi come un integer l'utente non gli serve a nulla capire o sapere che sul mio database questo è un uno per lui uno non rappresenta nulla quindi dalla parte front end ci sarà qualche funzione ci sarà qualche modo di far capire l'utente che l'uno vuol dire primo piatto secondo piatto verrà visualizzato a seconda da da quello che che progetto io come come sviluppatore quindi ok categoria ci sta e cos'altro sconto forse sì sì che anche questa è una scelta non banale no perché qui sto dicendo che lo sconto viene applicato ad ogni piatto un'altra scelta potrebbe essere dire lo sconto viene applicato ad una categoria no quindi da cosa dipende? da dal business logic di ogni di ogni applicazione la in questo caso è il disconto? ah no no come valore no 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 quello viene rappresentato come numeri che solitamente si fa con 0 o 1 sì forse descrizione che questo possiamo dire sia un testo è come un integer ah boh forse questo come non integer ma numeric nel caso che forse costi 7,50 allora non si può rappresentare come un intero ma come qualcosa di numerico ah c'è il reale ah ok sì in questo caso perché è più specifico quello lì ci indichiamo che è proprio un numero reale numerico invece lo lascio aperto e quindi questo sì per il prezzo può andare bene perché immagino che non prende valori ah ok si no non voglio dire qualcosa di sbagliato ma ok in questo caso lo lasciamo come reale e basta poi ora che penso a questa cosa diciamo vabbè in questo corso l'abbiamo fatto come che prima abbiamo fatto il front end che ha senso e ha anche senso cercare di progettare e di fare qualche prototipo per capire più o meno come sarà il front end quali saranno i servizi a cosa servirà va benissimo ma poi quando si fa lo sviluppo secondo me la cosa più importante da progettare sin dall'inizio è il database perché guardate che sembra diciamo sembra banale ma in realtà no e poi dalle scelte che si fanno dal database dipende come viene sviluppato l'applicazione no per dire se noi facciamo un errore o se poi ci accorgiamo che sul front end c'è qualche modifica da fare più o meno si riesce a fare facile no se noi dobbiamo togliere dal front end che ne so tipo una pagina e integrarla con un'altra ce la facciamo poi se invece ci accorgiamo che sul database su cui abbiamo siamo già andati a salvare tanti dati c'è qualcosa che non va c'è qualche inconsistenza o che il database non ci serve a rappresentare che ne so tipo un certo servizio una certa regola andare a modificare tutto sul database è molto più pesante no è molto più fatigoso e non sappiamo neanche se riusciamo a farlo quindi appunto nella vita reale forse se state per sviluppare qualcosa e se state per progettare un'applicazione conviene anche pensarla bottom up non sempre top down ma anche bottom up diciamo il top down serve appunto a capire, a identificare certe funzionalità, a identificare, a progettare ma molto velocemente ma poi quando fate lo sviluppo proprio vero il mio consiglio sarebbe cercare di farlo sempre bottom up ok niente qua ci sono i dati e poi vediamo questo sul vediamo questo su Visual Studio come si vede niente guardate che qua c'è il nostro database quindi per creare il database ci serve questo programma che vi ho fatto vedere, questa piccola applicazione poi all'interno di Visual Studio sicuramente vogliamo anche vedere cosa c'è ah ok una ok se voi volete visualizzare questo file all'interno di Visual Code e guardate che se cliccate qua e provate ad aprirlo lui non ve lo fa vedere perché dice che non sa come gestire quell'estensione lì e quell'estensione vuol dire punto db ok quindi potete scaricare un'estensione che si chiama SQLite ok quindi installate questa SQLite e poi quando dovrete aprire questo database fate open database e guardate non è molto intuitiva questa estensione quindi avete visto che ho fatto clic su open database lui dovete l'aperta qui vedete che qua sotto c'è SQLite Explorer se voi cliccate qui lui vi fa vedere che c'è il database che si chiama testdv.dv e che c'è la nostra tabella con i piatti e in questo caso ci fa vedere le colonne e aggiunge qualche icona per capire che questa colonna è la primary key e che queste sono obbligatorie e tutto quanto poi per andare a vedere i dati che sono salvati all'interno di quella tabella diciamo i dati propri e veri dovete fare show table e non c'è niente infatti e comunque se ci fosse qualcosa ve lo farò vedere qui e mi sembra che ci consente anche di aggiungere delle cose o di modificare la tabella sin da qui perché anche non vi fate vedere prima ma anche da qui allora ci sono due tabelle quella che abbiamo fatto noi è un'altra che fa default SQL per gestire delle cose operative ma che noi non dobbiamo noi non dobbiamo toccare che non c'entra niente con con la nostra tabella quindi se noi veniamo qua su piatti sempre la stessa cosa lui ci fa vedere tutti i campi tutte le colonne di quel database e poi c'è questa opzione che ci consente di aggiungere cose al database quindi guardate che c'era modifica e c'era questo naviga poi veniamo qua e niente aggiungiamo un nome posta categoria mi sembra che è rimasto come un numero e questi qua non sono obbligatori quindi lasciamoli così web point ah no si appunto questo qua in realtà questi campi che ho riempito qua sono dei filtri per andare a fare la ricerca sui valori che ci sono qua ve lo spiego perché non è molto intuitivo questo tool e invece se io voglio andare a inserire un valore lo faccio qui quindi qua farei tipo scusate pasta categoria facciamo 0 ok e poi nuova riga volevo giusto farvi vedere che avete visto che ho fatto nuova riga e lui in automatico mi gestisce questo id non so non siamo noi che dobbiamo andare a inserire 2 o a fare qualcosa quando viene creata una nuova riga lui in automatico mette il 2 e basta questo per dire che anche quando fate quando interagite col database dall'applicazione python sarà lui a gestire questo auto increment e sarà lui a gestire l'indice ok e basta quindi direi che finora sapete che andremo ad usare SQLite almeno sapete quali sono i passi a seguire per implementare la connessione e per andare a seguire dei comandi sul database e sapete poi come creare il file del database e sapete come creare una tabella all'interno di quel file quindi direi che per oggi possiamo lasciare qui la settimana prossima e facciamo un esercizio bene bene ah ci sono domande? tutto chiaro? ok grazie a tutti